Ok, buongiorno, secondo appello della seduta di consiglio del 29 marzo sono le 10.50, proseguiamo con l'appello, Teresi 11.50, si ha ragione signora, Teresi assente, Aiello assente, Altadonna assente Cavaliere, assente Di Gesù, assente Figuccia, assente Losardo, Lucido, assente Palazzo, assente e stabile, assente 9, assenti un presente. La seduta non è il numero regale, quindi viene rinviata a domani stessa ora, buongiorno a tutti, buona giornata.